Il centro di raccolta rappresenta un'altra opportunità dopo quello che già c'è in Vialorina di dare la possibilità ai siracusani di conferire in maniera corretta il rifiuto. Questo al fine anche di poter pensare in un breve o medio periodo di poter anche abbattere ulteriormente il costo della spazzatura perché evidentemente uno dei costi maggiori che oggi ha il comune di Siracusa è quello di andare a conferire in discariche private che incide nel bilancio qualcosa come 7 milioni e mezzo di euro. Tutto questo serve per portare meno quantità possibile di rifiuti in discariche e quindi abbattere i costi e dare anche da un punto di vista ambientale un segnale importante che Siracusa finalmente qualcosa sta cambiando.